Ciao a tutti e a tutti, eccomi qua con un nuovo video Allora, in questo video vi farò vedere le mie cover Sì, che sono 11 paia Sì, spero che vi piaccia e buona visione Allora, questa è la prima Che è qua tutto rosa Con i glitter qua, sì Poi questo mi hanno regalato l'anno scorso a Natale, penso Sì, che è un coniglio Sulla faccia c'è il glitter Sì Cioè, prima era tutto trasparente Ora è diventato giallo Giallo Fa schifo un po' Sì Poi questo era trasparente prima Però ci sono dei smalti sopra Perché era trasparente e volevo modificarlo Mi ha regalato il mio compagno di classe delle medie E volevo modificarlo Ho messo lo smalto sopra Ma volevo toglierlo Perché mi ero stufata Facevo schifo come avevo modificato Ma non si è tolto E' rimasto così Vabbè Poi invece questo è semplice Era di mia madre E' tutto azzurro Semplice Sì Poi questa è bellissima E' una cover comunque Perché E' uno specchio Però qua è una cover E poi qua Vabbè C'è lo specchio Bellissimo Ok Vabbè Poi questo C'è Dietro è così Tutto ruvido E poi davanti Mi ha regalato a mia madre E' bellissimo Però quando lo vuoi togliere dal telefono Non ci riesco perché è un po' difficile Poi questo è un po' difficile Poi questo era di mia madre Come c'è scritto qua Però mi è piaciuto Un sacco perché c'è tutto Come si chiama Il centro di Los Angeles E poi con tutti i colori dell'arcobaleno Penso E poi c'è scritto Los Angeles Ed è bellissimo Dentro è così Tutto così Fatto Con i disegni Sì Poi Questo Che lo uso Da quando ho preso questo telefono Che avevo già prima Quindi Io adoro questi disegni Tutti a zig zag Sì Mi piacciono un sacco E dentro E' nero E' nero Semplice Poi ultimo Questo Ho sbagliato Questo Cioè Questa frase E' la frase che C'è sulla mia parete Della mia camera C'è scritto Ora ve lo Ora ve lo leggo Fai della tua vita un sogno Ed è un sogno Una realtà Allora Questa cover L'ho fatto fare Quest'estate No L'anno scorso Ho detto a mio padre Se mi poteva fare La foto Della frase Che stava sulla mia parete Della mia camera Me l'ha fatto E ho fatto La cover Allora ragazzi Martedì E' un martedì Quindi devo studiare Tanto Cioè non tanto Però Devo studiare Ovviamente Quindi niente E niente E ci vedo Nel prossimo video E' un martedì E un martedì